Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruno, sto viaggiando in moto, eccomi qua nel Borneo, mi trovo esattamente a una trentina di chilometri dal Brunei, il viaggio è molto affaticante, entusiasmante, bellissimo, dei bellissimi paesaggi, ora ho deciso di fare una sosta in moto, qua ci sono dei rigagnoli, andrò, mi sdraierò un po' nell'erba, mi riposerò un attimino anche per diciamo stemprare un po' la fatica perché veramente ormai sono giorni che viaggio in moto, è bellissimo e tutto, però la fatica si sta facendo sentire, andrò qui, mi riposerò un attimino, ok ragazzi ci sentiamo alla prossima, ciao!